Il mio modo di fare televisione, il mio modo di fare informazione è quello di stare a contatto con i cittadini. I cittadini segnalano quanto non va e noi cerchiamo di amplificare la problematica rivolgendoci ovviamente ai soggetti di competenza. Quest'oggi siamo a Taranto in via del Pizzone nei pressi della porta Levante dell'arsenale della Marina Militare. Siamo con un telespettatore, un amico, il quale ha voluto segnalarci qualcosa. Di cosa si tratta? Buongiorno Luigi, siamo qui, siamo dei lavoratori dell'arsenale che purtroppo ogni giorno combattono con un senso di abbandono da parte delle nostre istituzioni. Più volte abbiamo segnalato che questa zona di strada è strutturalmente di piccole dimensioni e piena di arbusti che non ci consentono una visibilità in sicurezza. Come ci illustrerà adesso il nostro collega Umberto Renna, vediamo effettivamente che è proprio limitato già lo spazio. Noi la usiamo tantissimo perché è uno degli accessi principali per lo stabilimento e abbiamo necessità oggettiva proprio di guidare in sicurezza. Luigi. Ecco, quindi dicevamo queste siepi, questi arbusti che ostruiscono, impediscono di fatto la visuale. Quello che noi chiediamo come lavoratori, oltre che come sindacato rappresentiamo l'arsenale, chiediamo il taglio e lo sfalcio di questi arbusti, di questi rami che si protendono sulla strada, che oltre ad impedire la visibilità vanno a prejudicare anche la sicurezza della via pubblica. C'è dei lavoratori che passano tutti i giorni su queste strade. Immaginate che ci sono centinaia di lavoratori che ogni mattina all'entrata e all'uscita percorrono questa strada. Essendo pergiunta a doppio senso questa strada c'è una visibilità veramente difficile, soprattutto perché ci sono intersezioni, curve e quant'altro. Quindi a volte ad essere stretta ci sono proprio questi rami che occludono la velocità, diciamo la visibilità.